Il mercato del pesce è a 100 metri, ci facciamo un Domburi. Guarda che belli. E' proprio, c'avevo già il colazione dello scorso, è buonissimo, freschissimo. Vengono dai 1.500 yen più o meno, fino ai 3.000. Ma sono veramente, 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 c'è anche l'avventura a tempura. Sono veramente, veramente, veramente belli. Entriamo. Io prendo il numero, voglio cos'è che vai tu chai. Chai. Grazie. 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 Sarega il tuo taglio, non devo fare il dispositivo. Sarega il tuo taglio. Dopo un inizio un po' difficile, sono tosti eh. Loro due sono tosti anche l'anno scorso. Sono belli tosti. Arrivi, gli dici due rigatò, due soli massenne, poi ti chiedono dove arrivi, gli dici, si addolciscono, gli hanno permesso di entrare anche se non mangiava, perché ha pregiudizi sul pesce crudo alle 6 del mattino, ma perché? Perché non si può mangiare pesce crudo alle 6 del mattino? Vabbè, no, comunque è buono, buonissimo. Le uova di pesce penso che le abbiano tolte per darle a me, perché erano veramente stupende. E niente, è stato buonissimo. o abbiamo fatto due foto che vi ho già messo o vi metto adesso. Comincia a scarnebbiare e... al prossimo video! Sempre nuovi video! Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook! Perfetto! Iscriviti al canale! Iscriviti al canale!